Oggi 5 dicembre la Chiesa Cattolica festeggia il testimone Raoul Follero, l'Apostolo dei Lebrosi. Una vita spesa per difendere i diritti dei malati di Lebra e dei diseredati di tutto il mondo e per denunciare l'egoismo e l'indifferenza della società, dei consumi e dello spreco. Raoul Follero nasce nel 1903 a Nevers, Francia, in una famiglia di ricchi industriali. Si laurea in diritto e filosofia. Cristiano cattolico crede fermamente nel messaggio d'amore lasciato da Gesù. Fin da giovanissimo scrive poesie dedicate alla fratellanza e alla pace, contro la guerra, la miseria, l'ingiustizia sociale. A 15 anni conosce Madeleine Boudot, sua moglie, con la quale condivide per tutta la vita la sua missione a favore dei malati di Lebra. A 17 anni pubblica il suo primo libro, diventato famosissimo, 10 milioni di copie tradotte in 35 lingue, Le Livre d'Amour, dal francese Il libro dell'amore. Destinato a una brillante carriera come scrittore e giornalista, nel 1936 un viaggio in Africa, nel deserto del Sahara, cambia radicalmente la sua vita. Raoul deve realizzare un articolo sul missionario Charles de Foucault. La sua jeep si ferma in un'oasi. Qui il reporter incontra un gruppo di lebrosi, cenciosi, terrorizzati, affamati, abbandonati da tutti. Il cronista non si lascia alle spalle quello che ha visto, non ci riesce. Tornato in Francia deve fare i conti con lo scoppio della seconda guerra mondiale, 1939-1945. I suoi articoli tuonano contro il nazismo ed è costretto a nascondersi, ma non si ferma. Lancia delle campagne internazionali di sensibilizzazione rivolte ai potenti della terra e all'umanità, a favore dei lebrosi, esseri umani imprigionati, esiliati, privati del cibo, dell'acqua, delle medicine, di ogni dignità umana. I titoli sono efficaci. L'ora ai poveri, offrire la paga di un'ora di lavoro all'anno ai lebrosi. Un giorno di guerra per la pace, devolvere il costo di un giorno di guerra per i poveri. L'apostolo dei lebrosi, come viene chiamato, fa il giro del mondo 32 volte. Visita 95 paesi alla ricerca dei lebrosi da aiutare e tiene 1200 conferenze, nonostante debba camminare con un bastone poiché soffre di reumatismi. Nel 1952 scrive all'ONU affinché i lebrosari prigione vengano trasformati in centri di cura. Negli anni 60 scrive ai presidenti dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti e chiede in vano il corrispettivo di un giorno di guerra in Vietnam, conflitto armato durato vent'anni dal 1955 al 1975, da devolvere per opere di pace o di rinunciare a un aereo bombardiere per curare i lebrosi. Con i fondi raccolti durante le sue conferenze Raoul Follerot realizza un ospedale in costa d'Avorio, nella città di Alzopè, dando vita all'attuale Istituto Nazionale del Trattamento della Lebra e riesce a far curare e guarire circa un milione di lebrosi in tutto il mondo. Scrive libri tra i quali Se Cristo Domani, la civiltà dei semafori, la sola verità è amarsi. Editrice missionaria italiana Emi Le sue parole, soprattutto rivolte ai giovani, sono come macigni, scuotono le coscienze. La più grande disgrazia che possa capitarvi è quella di non essere utili a nessuno e che la vostra vita non serva a niente. È ben poco sperare e vivere è nulla. Bisogna amare. Il solo modo di assicurare la propria felicità è di non pensare che a quella altrui. Amiamoci, questo è tutto. È il segreto della felicità. Compattiamo i cattivi e tentiamo di convertirli. Mostriamo loro che battono una strada sbagliata, che il male è complice dell'infelicità, che solo la bontà conduce alla gioia. Il tuo ideale non è compreso? Che importa? Coraggio amico. La lotta non è mai troppo dura. Il sogno mai troppo grande. La civiltà non è né il numero né la forza né il denaro. La civiltà è il desiderio paziente, appassionato, ostinato, che vi siano sulla terra meno ingiustizie, meno dolori, meno sventure. La civiltà è amarsi. Ripetiamo dunque senza posa e senza stancarci ai responsabili del nostro destino. Meno carri armati e più aratri per tutti. Meno bombardieri e più ospedali per tutti. meno bombe e più pane per tutti. Contestate ma per costruire. Organizzate l'epidemia del bene e che contamini il mondo. Brani tratti dal volume Il libro d'amore di Raoul Folero, Bologna, editrice in Igrizia 1970. Testo integrale in versione italiana, inglese e francese www.ifo.it. Raoul Folero muore a Parigi nel 1977. La sua opera di sensibilizzazione continua attraverso varie organizzazioni a lui intitolate. In Italia a Bologna è attiva la AIFO, Associazione Italiana Amici di Raoul Folero. Oggi in 150 nazioni, grazie a Folero che l'ha ideata e all'ONU che l'ha lanciata, la prima volta nel 1954 viene festeggiata la giornata mondiale dei malati di Lebra, celebrata ogni ultima domenica di gennaio. Abbiamo trasmesso ecco chi è il testimone Raoul Folero, l'Apostolo dei Lebrosi, breve a geografia tratta dal libro di Mariella Lentini, Santi, compagni guida per tutti i giorni.